Una lavatrice che galleggiava nell'acqua e poi cumuli di arredi accatastati sulle sponde, ma anche un aspirapolvere e bottiglie di plastica. Solamente un mese fa la scoperta di questa discarica abusiva in località Broglio ed oggi, dopo un'attenta indagine, i carabinieri di Castiglion Fiorentino, assieme al comando della Polizia Municipale, hanno individuato l'autore dell'abbandono. Si tratta di un cittadino italiano residente in Valdichiana, amministratore unico di una ditta specializzata in attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali che dopo aver raccolto e trasportato il materiale lo ha abbandonato lungo il margine nell'alvio del corso d'acqua. Immagini che avevano fatto il giro del web suscitando non poca indignazione. L'uomo dovrà adesso rispondere del reatto di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del testo unico ambiente in quanto titolare di impresa per aver effettuato un'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione.